Siamo a Clusone con Mino Scandella fuori di un edificio in Vicolo Caio, qui nel 1628 la prima scuola clusonese. Esattamente, il 17 settembre 1628 Don Penaldino Petrogali del Masso, Petrogali avevano diverse denominazioni, questo era del Masso, lasciò la sua sostanza per aprire una scuola per giovani, per ammaestrarli nelle lettere e nelle scienze degli scolari secondo le loro capacità. La scuola venne gestita poi da sette reggenti, di cui faceva parte anche la ciprete, ma un altro fatto importante, nel 1668, l'8 aprile del 1668 Don Giovanni Donato Fanzaro, che era paraco di Castone ma era clusonese, lasciò anche lui la sua sostanza che venne aggiunta quindi a quella dell'amico Petrogali e la scuola fiorì e accettava qui diversi ragazzi, ragazzi, anche ragazzi poveri, mentre quelli di famiglie più ricche potevano parlare una certa quota. La scuola rimase qui, nella casa di Donato Fanzaro, fino al 1809, quando venne trasferita nei locali dell'ex convento delle Francescane, vicino alla chiesa del Paradiso. Uno degli ultimi insegnanti fu Don Pietro Cossali, insegnante di latino, che ebbe come alunno, venuto dall'anattia Schilpario, il futuro accaldinale Angelo Mai, che qui imparò i rudimenti della lingua latina e divenne poi, quello che noi sappiamo, grande paleografo, scopitore di monoscritti. Grazie a tutti.